Ad Aleppo si combatte su più fronti. I ribelli siriani hanno lanciato un attacco senza precedenti nei 18 mesi di guerra civile che hanno già causato 30.000 morti. Gli insorti tentano di avanzare dal sud-est della città, ma sono rallentati dall'artiglieria pesante schierata dall'esercito governativo. Intanto il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha rinnovato il mandato della commissione che indaga sulle violazioni dei diritti umani. Assad rimane aggrappato al potere e la sua brutalità ha scatenato una profonda crisi umanitaria. Non possiamo tacere. Il rappresentante siriano all'ONU nega, sostenendo che la relazione non rispecchia la realtà sul terreno e trova il sostegno di Russia e Cina, alle quali si è giunta Cuba, contraria alla risoluzione che condanna i massacri del regime di Bashar al-Assad. Da Washington arriva invece un'informativa dell'intelligence statunitense. Il governo di Damasco ha spostato parte delle sue armi chimiche in siti più sicuri.